Ciao a tutti, in amore fai attenzione all'inganno nascosto. In questo video voglio parlarti dell'inganno nascosto, una delle cose che devi prestare attenzione in amore. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Tramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare e abbonandoti potrai farmi delle domande alle quali darò delle risposte in apposite live. E adesso però veniamo all'inganno nascosto in amore. Che cos'è l'inganno nascosto? Allora, l'inganno nascosto è quando tu incontri una persona che sembra tutto a posto però dietro poi non ti rendi conto ma c'è un inganno, un inganno generale, un inganno nascosto che poi viene fuori magari quando tu sei coinvolto. Può essere qualcosa di tanti tipi, cioè potrebbe essere il fatto che ti ha tenuto nascosto di avere un compagno, per dire una compagna, che ti ha tenuto nascosto un suo problema, un problema legato al denaro magari, di avere problemi appunto economici oppure problemi di altra natura. Quindi questa situazione devi tenerla presente perché queste situazioni di inganno nascosto possono appunto generare veramente tanti problemi nelle relazioni sentimentali effettive. Quindi questo è una problematica che si manifesta molto molto spesso. E quindi devi imparare a gestire questa problematica, devi imparare a renderti conto che è veramente molto importante riuscire a superare queste situazioni perché se sei vittima tra virgolette di un inganno nascosto poi ti ritrovi la sorpresina, la persona che sembra a posto poi ha qualche problema. Quindi tieni presente che ci può essere, può essere una questione familiare, una questione economica, una questione di diversa natura. Le bugie, diciamo, gli inganni possono arrivare da ogni dove, no? Quindi non c'è un'area precisa da cui può arrivare l'inganno. Però devi tenere presente che spesso succede, quindi che la persona in qualche modo ti tiene nascosta delle cose. Potrebbe essere ad esempio il fatto che ha problemi con le finanze, che ha problemi di lavoro, che ha problemi di salute, che ha problemi di salute mentale, che ha problematiche familiari. Ecco, in questi casi bisogna tenere presente che non è detto che ci sia sempre, però prima di coinvolgersi con una persona nelle relazioni sentimentali andrebbe conosciuta a 360 gradi. Andrebbe conosciuta veramente bene prima di lasciarsi andare. Poi ci possono essere anche dei freintendimenti. Talvolta un inganno nascosto può essere un freintendimento, un aver interpretato le cose in modo diverso. Questa è un'altra possibilità. Però poi talvolta quando viene fuori, diciamo, la persona tende magari a minimizzare, oppure tende a occultare, tende a omettere fatti essenziali, diciamo, che potrebbero, che se tu magari conoscessi non intraprenderesti una relazione con questa persona. Comunque talvolta cerca di minimizzare alcune cose che invece possono anche avere importanza. Quindi l'inganno nascosto viene messo in atto per poter accedere comunque alla persona. È un meccanismo difensivo, per carità. Bisogna conoscere bene l'altra persona. Cercare di conoscere veramente a fondo prima di coinvolgersi, perché poi diventa tutto più complicato, no? Diventa veramente difficile poi, diciamo, chiudere una relazione quando non riesci, diciamo, a capire quando sei coinvolto. Quindi è importante fare domande in diverse aree della vita, almeno nelle cose fondamentali, cioè nella famiglia, le relazioni. Devono essere domande e poi analizzare la comunicazione non verbale, i problemi economici, finanziari, lavorativi, esistenziali, di salute. Insomma, devi cercare di fare delle domande e vedere se questa persona ti dà anche delle risposte convalidate, ad esempio a livello non verbale. Vai a vedere tutti i video che ho fatto sulla comunicazione non verbale. Ne ho fatti tanti, ti possono essere utili per capire dove sta l'inghippo. Perché spesso succede che nelle situazioni, diciamo, ci sono persone che utilizzano proprio questa forma e poi ti trovi un pacchetto dopo che alla fine difficilmente, magari inizialmente, ti fa sentire speciale, ti fa sentire la persona migliore e quindi tu, diciamo, non vedi. Quando siamo coinvolti purtroppo abbiamo le fettine di prosciutto sugli occhi e poi si possono manifestare invece situazioni che invece ti possono generare problematiche di altra natura. Purtroppo capita anche abbastanza spesso. Quindi è importante riuscire a sviluppare, a rendersi conto del fatto che dobbiamo superare queste forme e venirne fuori e riuscire ad essere più liberi nella gestione delle situazioni. Quindi perché soltanto la conoscenza ti permette di poter decidere, di poter esercitare il libero abitro. Il libero abitro, se tu non hai la conoscenza, non hai la consapevolezza di quello che è, non ti permette di abbassare, non ti permette di esercitare il libero abitro. Quindi non abbassare mai la guardia quando incontri una persona nuova, perché, ma anche dopo tanto tempo alle volte vengono fuori delle cose. Spesso vengono fuori, in realtà, ci sono tutti gli elementi lì davanti, solo che uno non se ne rende conto perché uno non se ne rende conto perché non vuole rendersene conto, perché spera che l'altra persona sia in una situazione diversa, insomma. Quindi questo invece dobbiamo tenerlo presente, perché è molto importante riuscire a capire queste situazioni, questi fatti. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai scegliere di farmi delle domande in apposite live alle quali darò le risposte. Ciao a tutti!